Il rispetto delle discipline sportive non può che essere equidistante tra calcio, rugby e atletica leggera, specialità praticata nello stadio Tomaselli, pertanto l'amministrazione comunale farà tutto il possibile affinché lo stadio Tomaselli sia abilitato ad ospitare gare di calcio, di rugby e competizioni di atletica. E quanto fa sapere in una nota l'assessore comunale allo sport Carlo Campione, evidenziando il problema ci riferisce l'ufficio tecnico e mettere in sicurezza lo stadio per gare superiori alla prima categoria. Purtroppo un problema che ad oggi non si pone. Campione aggiunge, speriamo che in un futuro non troppo lontano le squadre nissene di calcio possano militare in campionati superiori alla prima categoria. In quel caso saremo pronti ad affrontare le spese necessarie per avere uno stadio in regola. Sosteniamo che a Caltanissette il problema dello sport non è l'impiantistica ma avere la capacità tutti insieme, società, realtà, imprenditoriali, sponsor, politica, senza differenze di colori, cittadini, di lavorare all'unisono.